Il futuro della Sidi Castascandone Avellino all'orizzonte è difficile da scorgere. Alla squadra sono stati concessi addirittura 10 giorni di riposo dopo la sconfitta. Uno stop necessariamente lungo e voluto soprattutto dal DS Nicola Alberani che ha tenuto non soltanto conto degli impegni dei vari nazionali ma soprattutto degli umori dello spogliatoio. La sconfitta in Coppa non è andata giù a nessuno, né allo staff né ai giocatori. Con questi ultimi che hanno poco gradito la gestione tecnica e le parole arrivati a fine partita. Per evitare possibili scontri e finire di degenerare lo stop sarà utile a tutti per elaborare pensieri a mente fredda. In questo momento coach Stefano Sacripanti è nell'occhio del ciclone e lo è più di Bruno Fittipaldo e Dez Wells perché dal coach ci si aspettava un contributo maggiore nel momento del bisogno non ne legando tutto alla squadra. Nervosismo a fior di pelle per Sacripanti esplosi in rabbia anche durante l'incontro tra allenatori ed arbitri che si è tenuto sabato scorso a Firenze. C'è poi la questione societaria a prendere spazio. Gian Andrea De Cesare si sarebbe presentato a Firenze soltanto in caso di finale che tuttavia non è mai arrivata. Dalla proprietà si aspettano risposte tangibili che al momento non sono ancora avvenute e sia il ADS che l'allenatore sono in attesa di un incontro con il proprietario.